bene ragazzi qui da Buscobber ritrovate nel mio canale siamo nel quinto episodio delle storie di battlefield dovevamo fare sangue fango e il porta ordini abbiamo fatto tutte le altre quattro e sono state una più bella dell'altra soprattutto il nulla è scritto ragazzi per me quella è stata pazzesca con l'ultima che ho fatto poi alla fine quindi tanta roba oggi andremo a fare sangue e fango finalmente ci leviamo diciamo non dalle scatole perché per l'amore di dio ma ci togliamo appunto il primo capitolo grazie a tutti grazie a tutti edwards signore townsend andiamo ci divertiremo fuoco ho esaminato i tuoi documenti signore saprò fare la mia parte per il re e per la nazione ascolta se obbedirai ai miei ordini io e te saremo a posto prendi questi ti voglio presentare big bass la donna dei tuoi sogni ragazzi il nostro nuovo pilota ascolta te No, 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 niente parolacce. A lei non piacciono le parolacce. Finch. Edwards. L'hai mai fatto? Ha fatto che cosa? Pensa per te, McManus. Non preoccuparti, ci penserà lei a te. Bene, ragazzi. È roba grossa. Abbiamo l'ordine di sfondare la linea tedesca e distruggere le postazioni d'artiglieria che troviamo Finch. Sì, signore. Subito dopo, raggiungeremo la città francese d'Incambré Dove mi hanno assicurato ci aspettano vino, donne e musica Mi piacerà, credo McManus, no Ehi, siamo proprio sicuri che sia in grado Calma, McManus Ricordate tutti, fate il vostro lavoro Aiutatevi a vicenda E Big Bess aiuterà voi Fa che il Signore abbia pietà di voi Insieme ce la faremo, giusto Edwards? Sì, giusto Avanti, pilota! Mamma che ansia Mamma che ansia, raga Questo dannato uccello perde piume Fa la muta, McManus È normale Giuro che gliele strapperò una... Calma, quel piccione potrebbe salvarci la vita È il nostro unico mezzo di comunicazione Tutto bene da te, Edwards? Sì Inizio a capire come funziona Che facevi a casa? Guidavo Un'auto Ero un autista privato Fermiamoci Basta così La panteria partirà al primo fischio Noi la seguiremo Ma che spettacolo Avete mai visto qualcosa del genere? Sì Purtroppo sì Ascoltatemi Dobbiamo distruggere i cannoni vicino a quel mulino Ok Facciamo spazio per i nostri Ecco il senso Questo è il mulino Andiamo Forza Mamma mia, raga Che spettacolo Vai, Big Bess Caputana Oh, merda Andiamo, andiamo Forza, forza Dobbiamo andare a far fuori quel bastardo Ok Al fango Ok, uno è andato, mi sa Vai Distruggi tutto, Gabby Squared Oh, cazzo Ok, dobbiamo far fuori anche questo, raga Questo mi sa che l'abbiamo mezzo distrutto Qua si distrugge tutto, vero? Sì A fatica, sì Ok Vai, sparate, sparate, sparate Boh, 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 boh I cannoni tedeschi Avanti I grucchi non ce ne andranno da soli Uccidi tutti, uccidi tutti Spacca tutto, Gabbo Dove sono i cannoni? Eccoli là Là ce n'è uno Ah, cazzo, va giù Ok No, niente, non ci arriva Vai, spara, Gabby Squared I grucchi si ritirano Bravi, ritirateli Non facciamoli respirare Il mullino l'abbiamo preso, raga Ok, distrutto Ragazzi, occhi aperti per gli altri cannoni Ok, un altro è andato Là bisogna sparare a quel bastardo Morto Ma che potenza, ragazzi, Big Bass, eh? Andiamo, forza Occhio Vai, 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 vai Merda, merda, merda Ah, i lati Nei lati, nei lati I lati sono i punti deboli, raga Dai, perché non si distrugge sto bastardo? Raga Stiamo andando a fuoco Ok Guardate quanti Merda Ripara, 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 ripara Veloce, veloce, veloce Cazzo, ma siamo pieni qua Wow Ci va molto bene Tutto bene? Sicuro? Fincio Fincio Presto, andiamo andare Vai, ripara, zio Resta concentrato, ragazzo Dobbiamo volarci Edward Sistema il carro e torna dentro Ok Mi sa che sia tutto a posto qua, raga È più pericoloso Ok Ogni tanto devo uscire, raga E sistemare il carro Datti una mossa, pilota Ci siamo portati dietro Un iattatore E ora vince e è andato Hey Manus, datti una calmata Portaci fino a quel villaggio, pilota È lì che tengono l'artiglieria Ok Sì, sì, sì Voleva uccidermi quello Guarda, ce n'è un altro Cerchiamo di dover andare fuori il meno possibile, raga Perché qua No, cazzo era sopra Ok Va bene Ci ha colpito Pazienza Ok Distruggiamo l'artiglieria nemica Ok Andata Uno Ottimo Andate pure quelle E due Avanti così, ragazzi Voila Andiamo Madonna, ragazzi Si distrugge tutto in sto gioco Voila Boom Porca puttana Che figata Tutto si distrugge Scusate se parlo poco, raga Ma io sono veramente abbasito Sono con la bocca aperta Quello che sto vedendo Ok Abbiamo distrutto anche quella Per sicurezza Ok Distrutto Il canale da campo lo distruggo così Guarda Oh merda Ok Non andava avanti Se non lo distruggevo Incredible Quelli dietro di noi Ovviamente non serve distruggerli Eliminiamo tutte le difese Oh cazzo Aoooo Cazzo Le granate anticarro Sono scomode, raga Ce n'è un altro qui Boom Mamma mia Come si guidano bene Sti carri Mamma mia Merda Raga sto fango qua è brutto Brutto forte Facciamoli fuori Perché Possono arrecarci Dei gran problemi Quando Ho le granate anticarro Qui Non l'ho preso Ci stavano aspettando Non fermiamo Oh cazzo Stanno entrando Non ho trazione Respingiamoli ragazzi Levatevi da spesso Non ho trazione Siamo bloccati Avanti Su Avanti Facciamoli Bridget Signore Piccione Sei impazzito Ti farei ammazzare tutti Edward Dietro di te Libera il piccione Questo è un ordine Figliolo Sono stato abbastanza chiaro Signore 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 Piscione viaggiatore! Prendilo! Nuovi ordini! Ordini, dal campo, signore. È Townsend. Pronti a sparare! Tre, uno, quattro, due, tre! Ricarica! Ricarica! Fuoco! Ci siamo, ragazzi. È stato un onore combattere con voi. Certo! Ma è di giro! Ricarica! Hai una fortuna sfacciata, Townsend. Lo pensi davvero? Tutto quello che abbiamo sono ordini alla cieca. È il caso. Secondo voi chi colpirà per primo? Tappati quella bocca! McManus! Agli ordini, signore. Edward smetti in moto. C'è una perdita di carri! Andiamo! Andiamo! Stai, non esagerare. Ti prego. Avanti. Andiamo. Mica! Smettila, Besson. Smettila, Besson. Smettila. Basta, basta! Ha smesso. Che facciamo? Restiamo qui! A cazzo! C'è troppa nebbia. Non si riesce a vedere a più di venti metri. Forza, stiamo avanzando. Edward squido io, scendi e controlla avanti. Non fare l'eroe. Fai il tuo lavoro. Porca puttana, raga. Che spettacolo. Siamo di non farci ammazzare. Va bene, Edwards? Se finirai nei guai, saremo subito al tuo fianco. Ok, cosa vuol dire che devo condurre Bess? Cioè, raga, che cazzo devo fare io qua? Con una pistola? Cioè, I'm confused. Perché non sono dentro? Ah, per la nebbia. Ok, qua tutto a posto. Sì, tutto bene. Esegui una ricondizione del campo di nemici per indif... Oh, merda. Aspettate. Dovrai mantenere operativa Bess. Ok. Ma sta arrivando uno qua? Sì. Sta arrivando uno. Vaffanculo. Cristo santo. Merda. Vai, Bess. Dove stai? Merda, merda. Ho sbagliato, raga, perché andavo troppo forte. Cristo santo. Merda. Eh, ci sono i due cannoni, la raga, che non sono per niente comodi. Ok, un'andata. Due. Merda, 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 merda. Ok. I cannoni sono stati liberati. Così la pompa è sempre comodo. Qua ci sono delle granate. Granate. Ok. La cassa qua. Dinamite. Va benissimo. Dinamite va sempre bene. Andiamo, zio. Eccoti, ragazzo. Pilota, sei proprio un mago. Quasi non sembra di stare in guerra. Eh, addirittura. Edwards. Pessa ha bisogno di riparazioni. Ok. Ben fatto. Voilà. Neanche tante, poi, eh. Sfondo la barriera. Ok. Non vedo nulla, Edwards. Vai, Navas, scoperta e facci strada. Ok. Non allontanarti troppo. Ragazzi, adesso vediamo di fare un bel lavoro, eh. Vaffanculo. M'ha beccato. Via. M'ha beccato, m'ha beccato. Ok. Allora, devo pensare ai cannoni adesso, raga. Granata lì. Spara là. Ok. Ok. Molto semplice per ora. Merda. Per ora, ho detto. Mi raccomando. Attenzione. Ok. 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 Uno. Uno sistemato. No, raga. Questo mi ammazza. Ok, ha sparato, ha sparato, ha sparato, ha sparato, ha sparato. Non viene fin qua. Eh, l'ha finita di munito. Oh, oh, oh. Che cazzo è stato un circolo vizioso qua, eh. Madonna. Eccoti. Ci siamo, zio. Siamo a posto. Altro che è pilota. Questo è un gran militare, raga. Abbiamo finito le munizioni qua, quindi ci tocca. Oh, oh, oh. Questo è successo. Andiamo, forza. Mamma mia. Avanziamo, va. Ok. Occhio, raga. Occhio. Qua siamo molto attenti. Ok. Uno è andato. Qua ce n'è un altro. Di quelli che non è durato tantissimo. Occhio. Se questo spara è un casino. Ok. I canoni sembra, da quel che so, da quel che ho notato, che siano finiti. No, forse ce n'è un altro. Mamma mia. Allora, forse ce n'è un altro. Ok. Sistemato. Vieni qua, bless. All right. Ci siamo, ragazzi. Voilà. Keep going. Adesso qua, si fermerà e mi parlerà. Sicuro. Secondo la mappa presto lasceremo questi dannati boschi. Dobbiamo attraversare questo ponte e poi non mancherà. Oh, merda. Come faccio ad attaccarli? Qua, 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 qua. Vado, 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 vado subito, zio. Non ti preoccupare. Granata! Bella. Devo muovermi, raga, perché stanno facendo tanti, tanti danni. Porca Eva, raga. Non so come fare. Vabbè, il carro va bene. L'importante è, insomma, va bene. Dove siete? Finiti? Aspetta, best, vieni qua. Fatto. Sistemato pure questa. Magari adesso ne sarà una profusione, anche perché la nebbia non c'è più. Mamma mia, guardate quanti ce ne sono qua. Non mi fate salire sopra. Così. Fatemi salire sopra. Non voglio più stare qui. Non è un avamposto più avanti. Cazzo, il cecchino. Non mi ha visto. Aspettiamo che il cecchino si sposti. Devi. Girati. 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 Bravo. Ok. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Prima cosa uccidiamo quel bastardo che mi ha rotto il cazzo fino adesso. ok ma è best allora merda le anticarro o cazzo occhio vai ripara ripara ok ci siamo ma non c'è la metra agliatrice questa vabbè intanto comunque best sta avanzando e lì non stanno facendo niente per evitarlo liscio ma che carino che sono con sto coso ehi la bam morti non arriveranno altri si qualcosa di utile raga è questo qua che sto usando cazzo lì c'è qualcosa aspetta un secondo oh merda sono arrivati oh cazzo dai perché però perché sempre devo farlo fuori subito a posto di far sta sciacchezza qua oh merda cazzo due ce ne hanno ragazzo sapete che non l'ho preso sei serio è che non mi becca è che non mi becca ok ehi best cazzo best arrivo arrivo eh questi due qua sono dei diti al culo eh perché altro io che non ho mira ok quello è andato quello è andato quello è andato quello è andato vai 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 spara spara ok uno è andato ora manca l'altro che è là manca l'altro che è là bravo ok è andato pure questo raga dai beh spara ok here we go bombarissimi arrivano i crucchi e tu c'hai pochissima vita zio infatti li hanno fatto fuori un cannone abbastanza pericoloso oh merda surprise mother fucker solo i panzer qua mi fanno paura adesso come c'è qualcosa dentro sto bunker qua ma dov'è che arrivano eeeh aspetta oh cazzo tutte le volte madonna santa cazzo bel colpo ok raga adesso sapete cosa faccio merda dai 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 ripara 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 ok riparato 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 è distrutto eccomi siamo divertiti fin troppo per oggi entra e mettiti ai comandi oh finalmente riparato riparato liberi come raga iran l'unico e che 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 è in l'unico che è la è che è la è l'unico è che è l'unico ora non mollarci ora cosa è successo edwards ci servono delle candele nuove cerca cerca degli altri villaggi lo vedi ragazzo vedi il villaggio sì sì lo vedo i nostri carri vedi qualcuno dei nostri carri laggiù edwards sì ma non sono più il nostro possesso a quanto pare quello che serve a bass è proprio in quel villaggio d'accordo andiamo edwards andiamo buona fortuna vieni un attimo qui il carro non ripartirà e a lui resta poco tempo siamo fottuti e quindi vuoi abbandonare la missione ma non ci arrivi finci pricard tutti noi non abbiamo mai avuto scampo se lo pensi così macmanus vattene non parlarmi in questo modo ho fatto più missioni di quanti pasti tu abbia mai mangiato allora muoviamoci no mamma mia macmanus raga morirà tantissimo e lo spero siamo sulla stessa barca ma la tua via trova i pezzi fai partire il carro e non morire cazzo raga recupera candele di ricambio le candele stiti di cui ha bisogno sono nel villaggio occupato più avanti se esegui una ricognizione decidi come procedere ok io adesso vado su sto molino raga sinceramente voglio vedere sperando che non ci sia nessuno qualche di allarme perché adesso saranno tranquillo ma ok qua io lo sapevo di beccare questo magari anche col silenziatore che top ok ok troppo di quella che mi serviva ok 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 nemici nemico la la madonna quanti sono raga orca tutta sono tantissimi e me se faccia fuori quello cosa succede quello se ne ha accorto ok la elevati vai lontano vai lontano no ok sembra che il primo punto no non è liberato ce n'è un altro ok ora è liberato ottimo che cazzo è successo raga merda sono volato giù allora se non ce ne sono altri dovrei avere liberato questo campo che ovviamente era il più semplice per trovare le candele allora eccole qua ok recuperiamo la candela bene ok uno è andato altri tre perfetto ce ne sono altri tre questo mi fa piacere allora andiamo sull'altro mulino va bene signori qua siamo messi così ok la non ci dovrebbe essere nessuno si spera cazzo quello è coperto come facciamo quello è coperto ok ora non più devo sfruttare il momento ok ottimo bisogna far così raga ok ultimo sorso ok ci siamo torniamo giù ce ne dovrebbero essere tre a postazione ok là ce ne è uno ok ho c'ho la caca 12 colpi eh non ne ho tantissimi allora due no allarme dato merda è la fine raga ok mi hanno beccato ciao beh forse neanche tanto ciao dai stanno arrivando adesso dall'altra parte però io ho un pelino di tempo per gestirla bene lancia esca ammazza la trincea ammazza bertek serve per infliggere i due colpi di nemico cos'è la distanza del centro colpa a corpo istantanea ottimo mamma mia che equip ok ok sì ma ragazzi ma dove cazzo sono i pezzi del resto scusatemi ok qua c'è il secondo finalmente è due ore che siamo a metà madonna siamo a metà è mezz'ora che sono qui vabbè adesso comunque molto molto facile l'abbiamo capito che non c'è tanta gente va ok eppure poi sistemato madonna mia edward tutti li fatti fuori uff cerchiamo l'altro pezzo eccolo qua dai l'hai localizzato? dai localizzalo dove cazzo è raga? ma è difficilissimo è più difficile trovare i pezzi che ah eccolo qua sono fatti così basta saperlo ok perfect e ne manca uno che è quello la in fondo che è l'ultimo buone abbiamo set colpi eh non abbiamo tantissimi ce n'è uno qua sopra meno male che ho sparato che sfiga però raga ma che sfiga sono cascato oh cazzo ma viene giù il mulino qua infatti ok merda raga sono sono mezzo screwed pure il fiammere sei fuori via 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 lancia fiamme madonna ma che agitata c'è sto coso morto 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 ok fattivi darne il culo tutti i bastardi crocchi ok devo far fuori il cannone ah mi sa che ho mezzo fatto raga manca solo il cannone devo recuperare il pezzo bravo oh cazzo torniamo da Bess era nata merda si è girato vieni qua merda boh ti ho spaccato il cranio bastardo oh c'è un bel cavallo grazie grande Edward via torniamo da Bess andiamo sono qua Mccannon dov'è? oh cazzo non ricordo più la strada non c'è modo di andarsene da qui ne troveremo uno tocca a te guidare gran bel lavoro ragazzi già siamo stati in gamba eh? sì direi che abbiamo finito allora muoviamoci ho sempre agito per il meglio ogni volta in tutta la mia vita in tutta la mia vita mi sono sempre comportato come dovevo sempre sempre come dovevo si può sapere cosa vuoi tu stupida stupida maledetta macchina coraggio forza Bess devi riprenderti devi darmi una mano cazzo pensavo ti piacesse combattere stupida macchina ehi edwards le piaci quando dici le crovanze ehi edwards andiamo bene edwards il punto d'incontro è oltre quelle colline in lontananza merda mamma che spettacolo carri catturati entrano nel villaggio occhio ragazzi siamo ben ora non possiamo sapere cosa ci aspetta ma che pensiero piacevole eeeh vorrei disfuggere quel campanile lì quel mulino lì fino in fondo se faremo la nostra parte vai Bess non mollare proprio adesso mi raccomando forza dai spara grande ah qua non ho il bagaglietto che avevo prima eh qua due colpi sei giù eh zio tre fatti bene oh ok adesso no quel piccolo bastardo non ci scappa merda imparate mobilizzarlo all right chi è che spara come una bestia oh merda ce ne avrà uno davanti sicuro eccolo bastardo merda questo è scomodo raga ok le loro spalle ottimo merda non cascare giù zio ooo ooo non ballare la dab quindi che facciamo abbiamo l'iniziativa conquista lo scalo ferveri di burlon potremmo potremmo fare la differenza forse è ora di sparare gabbro credi muoviamoci confondiamoli mettiamoli in difficoltà e speriamo non capiscono che ci siamo solo noi non l'ho colpito sei serio lui si è anche bene ma l'artiglieria ma perchè sono sempre da soli nelle missioni che devo fare io piano piano occhio ok l'importante è distruggere si fa qualcosa damned merda raga devo devo sistemare oh cazzo siamo morti raga sono morto o forse no si oh cazzo ripara 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 mamma mia cosa sta facendo edwards ok mamma mia raga che cazzo ho fatto qua ok però torchiazzo ma qua sono tutti che spettacolo oh no no ragazzo tutto sto casino poi mi cappotto no eh ecco oh merda occhio tanto uno l'ho distrutto ok bello sto posto qua dov'è il canone da capo oh no ce n'è un altro ok ah almeno resistenza del nostro merda sto tornando qua non si riava dal cazzo merda ma quanti ce ne sono ah cazzo c'è pure quello piccolo bastardo vieni qua dobbiamo far fuori anche la milizia raga perché sparano le granate anticarro e non sono comodissime uh ha preso l'albero che dolce ok questo è andato merda no di nuovo di nuovo no di nuovo no di nuovo no raga di nuovo no quanto quelli li ho mobilizzati quindi va bene e basta avete rottato il cazzo eh mi sono spostato un attimo granata anticarro via cazzo spara ok fatto a fatica raga ma abbiamo fatto ripariamo dovevo andare raga dovevo andare di là forse merda raga merda merda cazzo vedete che devo fa così veloce 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 ok così ci siamo di più devo capire che cazzo è che spara così forte dio santo ok penso che sia a posto raga penso che sia tutto o no ancora questo siamo a posto muoviamoci vabbè fanculo va ok mi suggerisce le forze di contraattacco pure entra fanculo mi avete rottato il cazzo adesso vi ammazzo tutti i bastardi merda ecco così si fa gambo merda e dai oh e che cazzo artiglieria guida guida tutto bene mi 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 dispiare su base. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Edwards. E ora? Che cosa hai intenzione di fare, pilota? Andiamo a piedi. Andiamo a piedi. Andiamo a piedi.